Questo è il lungomare di Trevignano, siamo qui per passare due giorni, una giornata splendida di sole. Adesso vi facciamo fare un po' di passeggiata con noi. Una novità su questo lungomare sono queste belle panchine con i pensieri sopra. Qui ci sono Mahatma Gandhi e Dalai Lama con due bellissimi pensieri. Ma poi c'è anche la Damerini, ci sta Ungaretti, insomma ogni panchina è diversa. Andiamo avanti, finiamo la nostra passeggiata. Un aperitivo su questo moletto è assolutamente impagabile. Seduti al sole a prendere un aperitivo, passa la gente e quindi ci fermiamo. Attenta piano, spi. Niente. Piano. Via. Con questo tempo anche un magnifico giro sul lago con il canorto. È veramente uno splendore.